L'Italia liberata è il nuovo Calend Esercito 2025. L'evento è stato presentato dal comandante territoriale dell'esercito in Abruzzo e Molise, il colonnello Marco Iovinelli, e hanno partecipato alcuni ospiti, tra cui lo storico e ricercatore Francesco Fagnani, lo storico militare Pietro Piccirilli. L'edizione di quest'anno chiude una trilogia storica che, a partire dall'edizione 2023, ha voluto raccontare cosa accadde dai giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre del 1943, fino alla liberazione del paese il 25 aprile del 1945. L'opera editoriale ripercorre i principali fatti d'arme a cui prese parte il ricostituito esercito. Ogni mese è dedicato a un evento chiave della guerra di liberazione, accompagnato da foto d'archivio, illustrazioni e documenti inediti, che offrono un affresco storico di grande impatto visivo ed emotivo. Presenti all'evento, anche gli allievi dell'Istituto di Alta Formazione Musicale del Conservatorio Casella, diretti dal maestro Giovanni Ieie, che hanno intonato l'inno di Mameli. Il 25 aprile è un giorno di festa per tutti gli italiani, dove gli italiani riconquistarono la libertà e la democrazia. L'esercito ebbe un ruolo molto importante nella ricostituzione del paese.